E signori ieri ve l'ho promesso 24 ore per arrivare da campione ad Unreal, siamo al 96% e questa sarà ufficialmente se non dovessimo morire in letteralmente un secondo la partita che ci porterà in Unreal Quindi mi raccomando droppate un like, iscrivetevi al canale, guardatevi dall'inizio fino alla fine questa partita perché ci ha voluto davvero un sacco per arrivare a Unreal questa season Sono super contento, tra l'altro non dovremo disinstallare Fortnite ma sto parlando troppo presto perché Unreal ancora non ci siamo, manca poco alla fine della season Ma io ve lo prometterò, questa sarà la partita dei sogni raga, quindi mi raccomando guardate dall'inizio alla fine, io vi ricordo codice ferro prima di andare in partita nel negozio oggetti per supportarmi veramente al massimo E let's go raga, andiamo a fare veramente il devasto E signori da adesso ho vietato sbagliare, voi vi starete chiedendo perché stai andando a Borgo Pislacco quando letteralmente non è il tuo land E bella domanda signori, bella domanda soprattutto per un semplice motivo, perché io sono un pollo, sapete cosa vuol dire che tipo avviate la partita Andate un attimo in bagno a lavarvi le mani, a fare una roba, a fare un'altra e poi la partita si avvia Il problema è che io lo sto facendo con la partita che ci dovrebbe portare a Unreal, mannazza, è sollendato Vabbè, va bene, va bene, non facciamolo un dramma, non facciamolo un dramma anche perché siamo qua pronti comunque per fare il devasto ed arrivare a Unreal Io la vorrei vincere, immaginatevi se dovessimo vincere sta partita e fare così tanto il devasto e poi arrivare a Unreal No, vi giuro raga che sarebbe incredibile, tra l'altro se anche dovessimo arrivare a Unreal godetevi ancora un po' di minuti perché sicuramente vorrò provare una partita pure in Unreal Perché vabbè raga, sarò bello curioso, quindi se anche dovessimo finire prima la partita, una partitozza in Unreal ce la facciamo per forza, promesso Ovviamente voi promettetemi che starete a guardare il video fino alla fine, fermi che le snipero uno No, no, come ho fatto a non prenderlo? Sono un pollo No raga, era free, era una free kill, ve lo dico io Ah, ok No raga, mi vuole spaccare la macchina giustamente Fermi, fermi, fermi che se ne esce questo qua ci... no raga c'è il rampino, no raga c'è il rampino Teoricamente sono più veloce io, praticamente lui mi potrebbe shottare la macchina e poi me Quindi devo solamente runnare raga Holly running, mi sta pushando ancora? Penso di sì eh Non lo so ma penso proprio di sì, no raga ma che situazione è, ma che cavolo Fermi, ditemi che qua hanno loot, ditemi che qua hanno loot e che ci siano pure subito Ok, non male Godo, ti prego bro Mi sta pushando ancora? Se mi dovesse star pushando ragazzi ci perde lui ora eh L'avviso che ci perde lui perché... no no no, guardalo Fermi No no raga, fatemi andare via Ok, buono Fermi che invece lui adesso se sta andandola a lootare Io raga questo me lo fighto, sapete? Sapete che vi dico? Io questo me lo voglio fightare raga Fermi, no ho trovato i mini, si è trovato i mini raga Fermi che mi tiro lo scudone allora Fermi che mi tiro uno scudone, ok Se ne ha trovato i mini ma non ci credo ma non li avevo presi io Ah, lui mi può ittare Fermi Fermi che... No raga l'avevo preso Dovrei fiocinarlo Fermi, ok, no No way raga Il problema è che come me la giostro con questo Devo busciarlo, non ho paura raga Fermi No way Scivolata Ok Fermi che faccio la roba alla Martoz No raga c'ho il pompa carica Me lo so scordato Fermi Ok, 92 No raga un mio dio Ok, va bene, va bene L'abbiamo killato Però Non so Se ho fatto bene A killar questo perché mi ha lasciato one Ti prego dimmi che non ci sono persone Dove stava la macchina? Dove stava la macchina? Stava in fondo Perché stava in fondo? Non era mai nella vita là in fondo la macchina Forse mi conviene pescare raga Non so cosa fare aiuto Sono super... No 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 raga sono in difficoltà Ho super bisogno di una mano Dammi Oddio Sì queste buone raga Queste super buone Queste anche Fatemele far veloci Ok sono full Buono Ti prego dammi dei pesci scudo Ti prego dammi dei pesci scudo No il pesce peperino Non male però Ti prego Pesci scudo Neanche flopper Pesci scudo Ma c'ho la fioccia Ma che pesca Perché pesco Oddio Oddio nulla Oddio Cioè non va bene sta roba Io volevo Vabbè niente sto zitto che è meglio Io avrei decisamente preferito Un bellissimo cavolo Di pesce scudo Manna Oddio fermi Fermi che se si ferma un secondo E signori E l'head shottino è arrivato E l'head shottino è arrivato Oh mio dio Due kill 41 play rimasti Signori Questo è quello che volevo Oddio Oddio il bro Era messo benissimo Tra l'altro chi è che stava fightando Stava checkinando quelli là in fondo Io però vorrei degli scudi Prima di andare a fightare raga Sapete Io vorrei degli scudi E mi sa che mi conviene Andarmeli a prendere Fregandomene delle persone Che fightano Perché Se dovessi voler provare a fightare così Ah no ha beccato il player Andiamocene via Che se ne sta scappando pure lui Ed è meglio così fidatevi Perché letteralmente Con 125 di vita raga Non ci posso fare Assolutamente nulla Quindi andiamocene via E stiamo in tranquillità Ora gioco Ma lo sai che tipo Dropparmi uno scudone Così da nulla Non è peccato Cioè anzi Anzi Mi farebbe molto molto piacere Sappi lo gioco Ci tengo a dirtelo What Perché qualcuno Appena liftato qua raga Ma che cavolo Fermi che 30 30 30 Craccato Fermi No raga 30 white No raga Questo è da pushare vero No raga Questo è da pushare sì Questo è da pushare sì raga E ho visto pure dove l'è andato Ho visto pure dove l'è andato Fermi L'è andato qua raga In mezzo L'è andato qua in mezzo Ok Lo pigliamo questo eh Anche se Siamo messi più o meno uguali Quindi stiamo attenti Non è che siamo messi Tanto meglio Tanto peggio Ah ok Lui mi hita No no raga non è lui No raga non è lui Fatemi andar via Signore Non aveva più la skin di G-Sword Non era lui Fidatevi di me Oddio Dov'è la macchina Raga dove è andata la macchina No no Ah Un colpo di pompa Ah Un headshot con la deagle Il bro Mentre saltava con il rampino Ma dai Ma raga Ma era Era presemente lo G-Sword No dai Ditemi che sono real Ditemi che sono real Vi prego Vi prego Vi prego 99% Ma mi prendi in giro Ecco là Il G-Sword del cavolo Che aveva uno L'ha killato il bro A noi ci servia Con questa kill Saremmo arrivati in real Vabbè Ci toccherà fare un'altra partita Va bene così Allora dite quello che volete Ma secondo me è giusto Sempre tornare dove si è stati bene Eccoci qua signori La nostra fattoria Per concludere Quest'ultima partita Che se Non dovessimo morire Dal primo che andiamo a beccare Sarà la partita Che ufficialmente Ci porterà in real Raga io oggi ho giocato tutto Il dannato giorno E non ne avete idea Per arrivare in real Quindi mi raccomando Un like con iscrizione ovviamente Codice ferro Nel negozoggetti Per supportarmi davvero Al massimo Fatelo vi prego Non dite ma si Lo faranno già gli altri Fatelo pure voi Ogni singolo Codice che andrete a inserire È un supporto per me Quindi mi raccomando Se ci tenete Per questo traguardo Che stiamo per andare a raggiungere Inseritelo Per supportarmi al massimo Ora direi Scudone Velo giù non c'ho più voce Raga oggi sono distrutto Proprio completamente Sto pure sudando Infatti mi sa che devo andare A farmi una bella doccia E a lavare questa felpa Subito dopo Comunque non è la cosa importante Io ho visto lendare Un tipo Alla casa Qua davanti rossa Quindi io direi Lutiamo ancora un attimo Perché se ci dovesse Pusciare lui adesso Sarebbe un problema Ora Uno spassettino Gioco per concludere In bellezza Questa nostra Ranked in campione Non potresti darmelo Ma uno spassettino Così per il meme Quasi capito Divertente Ecco uno spas Lo chiameremo Uno spas divertente Cioè sarebbe bellissimo raga Peccato che non ce lo darà mai Nella vita Non ce lo darà mai E io lo dovrò accettare Perché non è che posso Inventarmi di trovare uno spas Se il gioco non ce lo dà Quindi vabbè Va bene così ragazzi A meno che in questa cesta Non dovessimo trovare nulla Effettivamente Vabbè Va bene Va bene Va bene Io direi Prendiamoci anche il cecchino Che tanto non ci costa nulla tenerlo Qua c'è per caso Uno spas No Zero Vabbè Allora Da adesso Stiamo un attimo Tenti Slurp Bellissima Tiriamo Due granate ballerine Eccole qua Oh no Oddio Oddio Che succede Oddio No no Scherzo Niente Sembrava che le granate Le avessero lanciate il bro Invece le avevo lanciate io Ora Raga Di cuore siamo messi benissimo Dobbiamo solamente capire Dove si trova il bro E provare a pusharlo Però non col Oddio no raga Vero Devo trovare un pompa diverso da questo Cioè Vabbè che prima ne ho killati pure Di tipi con questo Ma attualmente Non me la voglio rischiare Signori L'ultima partita Con questo pompa Voglio il nonno normale Oppure Qualsiasi Allo spas Lo spas Un nonno normale E uno spas Raga per forza Giuro che piuttosto Se dovessi trovare un tattico verde Piuttosto mi prendo il tattico verde Veramente Allora raga Qua ci sta un caccia Super buono il caccia eh Super buono Ora la cesta qua non ci sta Grazie gioco Qua hanno fightato Io raga voglio fightare ora It's time to fightare Per forza Là alla fine non c'era nessuno Letteralmente Quindi It's time to fightare Allora Se dovessimo dire ora Primo fight Addirittura perderemmo Dei punti Se non mi sbaglio Quindi cerchiamo di non morire Almeno il primo fight E se invece dovessimo Riuscire a creare la persona E sopravvivere ancora un bel po' Forse ci prenderemmo Quell'1% Che ci manca Per arrivare Unreal Oppure Semplicemente signori Non perderemmo punti Con la kill Quindi la kill è da far per forza Che almeno non siamo in Negativo Eccolo là Ok signori Quella è la persona Che ci divide Dalla Unreal Tra l'altro le due persone Ok mi piace Mi piace Mi piace Due kill raga Significa Unreal eh Sappiatelo che due kill Significa una sola cosa Ovvero Unreal M'ha visto? No che non mi ha visto Potrei laserarne uno Laserato per bene Buono 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 Gli spammo pure a quello Fermi che faccio cadere tutto raga eh Fermi che se loro non se ne accorgono Faccio cadere tutto Fermi che faccio cadere tutto Non ci credo raga Le due kill più belle del secolo No raga non ci credo Le ho fatti cadere tutti Uno si è killato No però c'è il rampino l'altro eh No raga c'è il rampino Non ci credo Non ci credo c'è il rampino Dal poterne killar due Non ce ne siamo killati neanche uno Ok fermi Ah il più forte del mondo Fermi No raga No raga non ci credo Non mi sono neanche tirato No raga sono scarsissimo No raga non ci credo Era tutto perfetto Era tutto perfetto Tutto Eppure ho perso No ho perso pure punti ora Raga ho perso pure punti Fermi 2% Va bene va bene va bene Ultima partita Questa deve essere la dannata partita Che ci porta a real mannaggia Sto facendo di cadere Avevo praticamente vinto Allora dal non esserci persone E esserci ero un po' troppe Io non so se andare comunque No vado nella zona rossa raga Vanno loro alla casa Vabbè lasciamoli andare Questo poverino Si è trovato tutto preso Ok ma poverino Ma poverino un paio di scatole Siamo tutti nemici Qua signori Siamo tutti nemici adesso Vedete di non farmi arrabbiare Perché il ferro sarà il nemico Numero uno Di cui avrete veramente paura Dovrete aver paura Ok piano ora Zitto ferro E vedi di trovare un fucile a pompa E degli scudini Così che puoi andare full No non li troviamo gli scudini vero Non li troviamo gli scudini Ti prego di uno scudino 3 scudini Dai non era difficile darmi degli scudini A gioco Oddio però Sapete che doppio scudone Che gli dici No Cioè va super bene anzi Oddio sento passi Sento passi raga fermi Eccolo lì Strasgamato eh Strasgamato Strasgamato Io vorrei un pompa però raga eh Allora Piano che senza un pompa raga Non Onesto Preferirei non pusharlo Senza un pompa raga Preferisco non pusharlo Perché significherebbe Probabilmente morire invece Fermi Fermi la clacciata Il clutch Allora Rispottiamo quello E rispottiamo questo Ok Buono 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 Colassen sta in casa Si va a fightar questo raga eh Fermi 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 No raga Non ci credo Sono un grande No raga Ma non ci credo Ma che vogliono No way raga Sono morto eh Non pensate Fermi Non pensate che io Questo me lo riesca a killare Fermi Ah ma Ah Ma ha preso tutto al primo No io non ci credo Quello là che mi spama Col pompa da 60 metri Mi toglie tantissimo E questo mi prende tutto al primo No raga 93% Ma non ci arriviamo più Non ci arriviamo Ok signori abbiamo questo Che ci contesta Chi prende la prima l'arma Dimmi che qua ce ne sono Non ce ne sono C'è sta che non c'è No raga siamo morti No io non ci credo Ve lo giuro non ci credo Fermi Ok Vi devo tirare questo Sicuramente siamo messi meglio noi raga eh Siamo messi meglio noi Ma è meglio che scappo Perché un altro meno 4% Raga Significherebbe non arrivare in Unreal E io adesso Devo arrivare a Unreal Ve lo giuro raga eh Questo video durerà un po' di più Degli altri Ma io in questo video Devo arrivare a Unreal Ve l'ho promesso Erano 24 ore Sto giocando tutto il giorno Giuro che devo arrivare a Unreal Punto stop Si arriva raga eh Non me ne frega Proprio assolutamente nulla Ok allora Full siamo full Poi tra l'altro ci sono altre persone ancora Mannazza ma quanta gente ci sta Quanta gente ci sta Ma non potevano farsi gli affaracci loro E andare in un'altra zona No no Dovevano per forza andare tutti qua Tutti qua a fattoria signori Cioè non ce l'ha andato nessuno prima Che ero messo bene Invece adesso ci sono tutti Va bene così Va bene No raga ma io Mi Ah ok 42 Fermi 42 di nuovo Lui era full eh Lui si continua a rifullare Ci sono mini là raga Devo prendere quei mini Fermi Ah giustamente arriva Arriva l'altro no Tira le esche Fermi Fermi che Il Bruno sapeva che Da qua si poteva hittare No way No way Dall'altro Mi deve hittare l'altro Questo aveva uno di vita Allora guys Questi qua Se ne vanno là in fondo Io Lendo qua come primo Mi prendo una R Spero di oserarne qualcuno Honesty Ah no Si stanno già per chillare loro Si sono già chillati volevo dire Ok Ti prego dammi un po' in paura Sarebbe Ok Super buono Fermi No No Ti prego spaccati E dammi qualcosa di buono Niente Non si spacca La cucina qua non si vuole spaccare Niente vabbè Dobbiamo anche Per almeno Fermi che Il Bruno mi vuole fai tar subito eh Lui mi può hittare Io no Traccato invece No raga Ci moriamo eh A finire che ci moriamo Lo dico io Fermi tutti Fermi Ok No U è 87 U è 1 di vita Signori ma questo Questo è Eh è lo script di Fortnite 87 1 di vita No raga Meno 4% di nuovo Signori è tutto da rifare Signori forse non è chiara una cosa È tutto da rifare O ci arrivo con sta partita O è tutto da rifare Allora raga Io voglio fare un recap Due persone in due partite differenti Lasciate a letteralmente 1 di vita Un tipo che sta letteralmente Andando qua E poi mi spiegherete Che cavolo vuole Fermi 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 Appena salta No raga ma come ho fatto missarlo Ma come cavolo ho fatto missarlo Era una free kill raga Questa era una free kill Ma non ci credo Dammi mini pompa vi prego Niente mi ha dato niente Raga vi giuro Io voglio fare veramente un recap Il gioco Allora abbiamo lasciato Due persone A 1 di vita No way Ma l'avevo Oh l'avevo presamente preso Vi giuro che l'avevo presamente preso Questo dove va No way Questo non l'avevo preso per nulla Allora Fermi Fermi che sta là Esci ancora un attimo brother Vai bravo Dai che ti kill Dove stai No way Ragazzi muoio di nuovo Muoio di nuovo raga Oh mio dio Io non ho parole Raga io non ho parole Non arrivo al real Devo installare fortnite No raga ma il gioco mi vuole male Il gioco mi vuole male Ma cosa sta succedendo 81 per No raga mi devo firmare Sto tiltando Raga questa è la cosa più pericolosa Che potesse succedere 81% No raga sono arrivato al 90% 99% Ero il 99% Ok sto tiltando Raga io mi devo fermarmi Devo fermarmi assolutamente Io non so se arriverò al real Devo fermarmi Non devo più giocare Signori Spero che questo video ci sia piaciuto Like iscrizione Codice ferro E diventa sempre più difficile raga Diventa sempre più difficile Non voglio disinstallare forte per sempre Oh mio dio O mio dio